Nel 2018 la detrazione fiscale per la sostituzione degli infissi è stata ridotta al 50%. Gol da Seramenti, sino a fine anno, ti garantisce comunque un risparmio del 65%. Vuoi sapere come? 0143 88 29 13 Gol da Seramenti, gli specialisti negli infissi. A Silvano Dorba, località Caraffa e ad Acquiterme, in corso di visione Acqui 27, seramentigollo.com Aperti anche sabato mattina. Il Parco Acquatico Lavagello di Castelletto Dorba vi aspetta da lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle 19 e la domenica dalle ore 9 alle 19. Per info 0143 83 06 91 www.lavagello.it Info chiocciola lavagello.it Grazie a tutti per aver guardato il video.